Aquilini, buongiorno. Qualche settimana fa ci aveva raccontato la sua personale opinione sulla Fiera dell'Ascensione, affermando che l'assenza non era più la stessa e che Pomponio aveva fatto bene ad effettuare i famosi tagli di cui tutti hanno parlato. All'indomani della giornata conclusiva della Fiera, che opinione si è fatta dell'operato del Commissario? Buongiorno a voi, ma riconfermo pienamente la mia posizione precedente. Io sono favorevole alle scelte che il Commissario Prefettizio ha fatto. Vorrei raccontare un episodio. Io per il mio lavoro rifornisco alcune bancherelle che svolgono l'attività alimentare, i classici panini e i crafen. Ieri sera ho voluto chiedere a loro come fosse andata e loro mi hanno risposto altamente positiva. E io ho risposto come mai? Sicuramente perché non abbiamo avuto una concorrenza, come l'anno scorso, gli anni precedenti, di queste stand pieni di banchetti all'insegna di questa eno gastronomico ravioli e via discorrendo. Cosa si augura per l'assenza del prossimo anno? Dunque, io vorrei precisare che ieri si è verificato che indipendentemente dall'assenza degli stand, la Fiera di Voghera ha una sua potenzialità. C'era tantissima gente lungo le bancherelle. Pertanto ritengo, questo è il mio progetto, il mio pensiero, che cosa una persona che non è di Voghera e viene a vedere la scienza di Voghera vuole. Credo che voglia vedere e conoscere che cos'è Voghera. Pertanto nella parte standistica io personalmente metterei quello che si possa rappresentare il tessuto sociale e lavorativo di Voghera, quindi con tutte le sue forme artigianali e commerciali.